Siamo con i ragazzi di April Academy che hanno vinto la finale del trofeo dei Monti Sibillini Adesso chiediamo prima una cosina a Velletrani Avete vinto la partita, siete riusciti a giocarla benissimo? Siete contenti? Sì! Hanno risposto tutti, meno male È stato quindi un anime È stato un sogno È stato un sogno, dimmi qualcosa in più, dai Allora, siamo arrivati fino a qui E praticamente abbiamo fatto di tutto E ce l'abbiamo fatta Mi hai fatto un assist perché la domanda che volevo fare a Basilico Era proprio il fatto del percorso che avete avuto Siete stati contenti comunque di essere arrivati qua Sicuramente ci sono state partite difficili Quindi va bene ragazzi, siete stati esaustivi Io vi ringrazio e buona fortuna per le prossime partite e per il proseguo della stagione Forza!